Bene ragazzi, io sono IsmaGayComet36 E siamo con un amico Fatti vedere Ehi, sono... Non si vede una ciappa Lo so, infatti viene la luce Aspetta, io devo fare questa cosa Ok, qua ci sono i peluche, ve li faccio conoscere Pinky Winky, Lipsy E qua c'è Piggy Come l'hai salvato? Ok, lui c'è mia nonna Tu nonna, dove è tu nonna? Ciao, sono nel video di Insta Cioè, no, cos'è? Youtube Youtube? Non è caduto, non è caduto No, sei caduto Ok, ragazzi, niente da dire Oh, vi faccio vedere una cosa epica Si può fare l'Inception Filmando Gabbè, non posso capire dove l'hai messo? Aspetta, adesso arrivo Vai che si vede, vai che si vede Guarda C'è Inception Soltanto guardando questo Filma me che filmo Ok, è una cosa figa Guarda che bello È una cosa figa Ok È una cosa stupida e gnotica Cosa? Non si dice Ok We Allora, prendiamo quello vecchio Oh ragazzi Quando si dice We Si dice We Sonsa pubblico Qui c'è uno specchio Ci sono io Qua c'è uno specchio Ragazzi c'è uno specchio E ce n'è uno Guarda me Fai Inception Si guarda qui Qua c'è il pipitano Ecco Bla 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 Whatsapp Bla 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 Come dice Qua c'è il vigno di un mio amico Non si vede Si si vede Ok Faccio conti come tu E se non mi avete riconosciuto Sono quello che su Instagram E le foto divertenti Sono Gabriele Tatino Basto Più vitone 1 E finalmente posso fare il video Con questa star YouTube Star Non proprio star Diciamo strada Strada Ecco Mi fai vedere la strada Ok Possiamo vedere la strada Ok ci sono troppe macchine Quindi Macchine volanti Ok qua c'è la strada Se si vede Spero che si veda Spero che Si si vede C'è il balcone Ma non so Prego Ok qua c'è la strada C'è l'Isis Dove? Ok ci sono troppe macchine Questa E questa non è casa mia Però E anche casa mia Non usate Cosa Questa è la casa mia Non so Fai l'ingrandimento Non si può fare Quando è sul visivo No Aspetta Si che si può Davvero? Aspetta Ok tu Guardati nella telecamera Vedo Che figata Su te Non si può fare Guardate le mie scarpe Che figa Guarda 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 Gabriele Non so Dai Allora Daniele Devi svegliare Tu padre Adesso voi Vedrete lui Aspetta Vieni vieni Lo dici Ok ragazzi Vi dirò una cosa importante Adesso vedrete Lui che sveglia Suo padre Ok Allora Tra poco Mi ha visto Non si sa Lo so L'ho registrato Vi ha figato tutto No no Cosa stiamo facendo Eh non lo so Dimentico Cosa stiamo Ok lui sta facendo geogebra Fai fare qualcosa anche a Isma Sì sì Se l'ha perso in caccia Ehi No io non mi caccia Ok Lui sta facendo geogebra Una cosa di matematica Della scuola Orribile Della scuola Fate tutti schifo Ecco Se non sapete che cos'è geogebra Vi state perdendo parecchio Perché è divertente Creare triangoli Non è vero Fa schifo Matematica Guarda E fa schifo Ok qua Come potete vedere Lo sta facendo lui Secondo Triangolo Sì si vede Sì si vede Ok mette fuoco Terzo Oh guardate un po' Faccio un triangolo sul triangolo Un triangolo sul triangolo È una cosa importante Su un poligolo Ok Triangolo che da sul triangolo Che porta su un ponigolo Che è Ponigolo Ho detto ponigolo Ho detto ponigolo Ponigolo Poni Poni Adesso io tengo la telecamera Mentre Ismael fa qualcosa di utile Ok E sarebbe una cosa parecchio rara Però Ok faccio un triangolo Mi ho già fatti io i triangoli Vai un quadrato Clicca sul Questo Clicca su questo Ok Vai in segmento Io non so che cosa sto registrando Potrebbe avvenire una schifo E la gente non neanche vede Ok non facciamo un rettangolo E un quadrato Va benissimo Non l'hai chiuso Devo chiuderlo Hai fatto la spezzata aperta Che vuol dire Che è aperta Ok No Cosa sto facendo Non importa Devi cliccare su questo triangolino Al contrario che c'è qua sotto Qui Esatto Vai sul segmento Il secondo Dai Unisci PS Di 1 e 2 Che schifo Grazie Un quadrato storto E adesso fai Un esagono Sai cos'è un esagono? Non sai cos'è un esagono? Aspetta Non sai cos'è un esagono? Ok me ne devo mettere qua No No cosa stai Segmento Ok Allora Potresti fare un esagono Semplicemente No faccio un rettangolo Poligono rigido Fai un poligono rigido Faccio un rettangolo Se ci tieni Potresti fare un rettangolo rigido Vediamo a che punto siamo 6 minuti e 6 Aspetta aspetta A 6 minuti e 66 Eccolo qua ragazzi Il mio rettangolo Il mio rettangolo Ma Che bello Ok adesso lo fai tu Meraviglioso Ok io faccio schifo Ok adesso Anche lui Anche lui fa Ma che banana Dice C'è un poligono rigido Filma qua Filma qua Isva Ok Vediamo 1 2 3 4 Si 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 vede tutto Si vede tutto E 5 Il rombo No 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 qui Se non si vede Stanno facendo un lavoro inutile Infatti Ah pochino si vede Pochino si vede Ok allora Io spero che si veda Ok Qui è un rombo Dai È un rombo No fai un altro triangolo L'ho fatto rigido Perché Mannaggia Cos'è che ho fatto L'ho fatto rigido Sta impazzendo E così guardate Se lo prendo Saluta Eh Ok Guardate Se lo prendo Posso fargli fare Questo E far bugare Il sistema Ok Bug the system Ok si sta Si sta bugando Guardate qua Fallo ancora Fallo ancora Aspetta Le coordinate Ok vai 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 Guardate le coordinate Ragazzi Guarda dove Questa facendo Guardisci C'è guarda è meglio Lasciamolo qua Qui è benissimo Ok Quello è quello che ho fatto io Ehm No Adesso Scriviamo I nostri nomi Ehm Si Allora No la bro ci ammazza Allora Io scrivo il mio nome Io scrivo il mio nome No Si ma tu non sai scrivere Un bloccio Cosa El Smile king Il mio account di instagram Guardatelo bene Gabriele Trattino basso Dov'è Gabriele Pipitone Ok Uno Ok qui sarebbe Questo di instagram Quindi se volete Iscrivetevi Instagram è su Mi raccomando Io metto meme Foto divertenti Ok instagram Oppure Create da me Ok instagram Se me le volete consigliare Ma non puoi parlare Ok instagram e sus Sono due Diverse applicazioni Ok Parla pure Ehm In pratica Boh Mettete queste foto Eh se avete delle idee Per delle foto Che però non potete fare O perché non avete L'applicazione O perché sono troppo lento O perché non vi funzionano Le robe così Potete scrivermi In direct Su instagram Oppure mandandomi un messaggio Su su Mi date la vostra idea Io pubblico la foto E voi ve la vedete Ok poi Daremo il numero di whatsapp Che pipitone No Non è vero Non è vero ragazzi Tu lo dici Ok Aspetta fai vedere Fai vedere i nomi Non filmare il nome Dell'altra persona Ok Vi ricordo che Aspetta Un secondo Guarda guarda i nomi Ok aspetta Aspetta Ok Vai Guarda Is my king Dovesse conoscerlo E pipitone Uno E Gabriele Adesso sono nove secondi Nove minuti Nove minuti Possiamo dire che è finito Sì Ormai abbiamo finito il video Ragazzi Spero che Mi raccomando Seguitevi Spero che vi sia piaciuto Fai tu la Out intro Come lo chiami tu Che cretina Spero Stai Ok Spero che vi sia piaciuto il video Ragazzi Mettete mi piace Se Oh Mi lasci Mettete mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se non vi siete ancora iscritti E seguite le pagine di Pipitone Dilla ancora se vuoi Con il cavolo Basta Ho rotto il cacchio Con ste pagine Ok Con le pagine Vabbè Instagram E tutto E ci vediamo Al prossimo video Ciao